abbiamo adesso una bellissima alfa un'alfa carrozzata da touring con con la cappottina in ferro con l'artop in ferro è una alfa romeo 2000 spider carrozzata da touring touring in genere carrozzava sempre le vetture in erano quasi tutte in alluminio questa invece è una delle poche assieme alla 2006 che sono carrozzate che sono fatte in ferro la meccanica è un quattro cilindri in linea 2000 di cilindrata 1.975 per esattezza 115 cavalli e 175 all'ora di velocità massima è una vettura molto godibile molto piacevole affidabile e questa come dicevo prima appunto ha l'artop che diventa quasi un coupé con l'artop per cui è uno spider ma con con il coupé con l'artop ecco la cosa abbiamo adesso un volkswagen e un t2